Con il Presidente dell'Unione Montana, Giampiero Feliciotti, torniamo ancora a parlare di comunità energetiche rinnovabili. La seconda delle marche è quella che fa parte dell'Unione Montana, a cui sono stati affidati oltre 13 milioni di euro per realizzarla. Non tutti i comuni hanno deritto però. L'Unione Montana si è resa promotrice per tutti e 15 i comuni di questa novità delle comunità energetiche. Poi Tolentino, che supera i 15 mila abitanti e ha una sua cabina e produce direttamente con una propria centrale idroelettrica, l'elettricità ha ritenuto opportuno andare per suo conto e parimenti Sarnano ha ritenuto non aderire all'Unione Montana e agire per conto suo separatamente pur essendo sotto i 5 mila abitanti. Il nostro progetto mette insieme su tre cabine primarie 13 comuni, perché le comunità energetiche possono essere fatte da comuni che ricadono sotto la stessa cabina primaria. Nel nostro caso abbiamo Belforte del Chienti, abbiamo Urbisaia e per Monte San Martino e Penna San Giovanni abbiamo Forci. Il nostro progetto vede l'Unione Montana in tutte e tre le comunità energetiche presente e quindi stiamo studiando di mettere tutte e tre insieme per avere una sola governance ed avere un risparmio anche economico nella gestione. Ora il finanziamento del commissario è arrivato, ma per avere la partecipazione del privato per mettere in piedi un articolato di appalto pubblico privato ci sono ancora delle difficoltà e parimenti il Ministero è proprio di questi giorni l'ultimo decreto dove ha chiarito l'entità del contributo. Noi credo siamo l'unica realtà che si è mossa e che è già operativa e che stiamo mettendo a punto l'operazione. Abbiamo anche alcuni privati interessati, quindi abbiamo l'orgoglio di aver collaborato e il nostro ringraziamento soprattutto a Guido Castelli al senatore e commissario del Sisma che ha creduto in noi e che ci ha consultato. Abbiamo avuto diversi incontri con Palazzo Chigi e stiamo già operando e siamo sulla buona strada. Ottimo il risultato che avete ottenuto, come dicevi poco fa, a livello regionale in termini di finanziamento. Siete secondi? Sì, il problema non è qui arrivare primi o arrivare secondi, il problema è avere un progetto che arrivi ad essere compiuto. Le comunità energetiche non sono, ahimè, alla portata di tutti perché sono molto complesse, molto complicate e soprattutto le amministrazioni, la cittadinanza tutta stenta a credere ai benefici di queste comunità. Però stiamo cercando, io mi sono fatto tutte le riunioni e le assemblee nei vari comuni per far passare questo messaggio. Chiunque riceve oggi una bolletta può constatare che oltre i due terzi si tratta di tasse di trasporto di energia di piccoli balzelli con la comunità energetica. Tutto questo scomparirà e la bolletta andrà diminuita più o meno circa l'80%. Noi abbiamo in prospettiva 200 impianti, 200 adesioni che sono state reperite nei vari comuni, stanno effettuando i sopralluoghi per il posizionamento e la resistenza dei tetti perché bisogna anche valutare tecnicamente dove si vanno ad alloggiare i pannelli solari. Non abbiamo assolutamente voluto inserire la possibilità di impianti a terra perché siamo totalmente contrari. Abbiamo qualche centralina idroelettrica che ci aiuta a completare il raggiungimento dei kilowatt necessari e stiamo valutando la trasformazione anche dei scuolabus ad energia elettrica. Il progetto sta entrando in questi giorni nella sua precipua effettuazione e speriamo di arrivare quanto prima a poter concretizzare quanto previsto. Naturalmente bisogna effettuare dopo le delibere dei comuni che già sono in corso bisogna effettuare tutti i contratti con i privati bisogna avere la contezza che quello che si va a porre in essere sia poi gestito. dobbiamo creare una società che potrà essere una SRL o una cooperativa di comunità oppure una semplice associazione questo saranno poi i sindaci che fanno parte dell'assemblea a decidere comunque stiamo andando avanti. Alle comunità ricordiamo che tutti possono partecipare? Sì, la comunità energetica sono partite per questo bando del sisma con i sindaci che hanno messo nei siti chi vuole partecipare ma è solo per iniziare il percorso alla comunità energetica una volta costituita possono partecipare tutti basta solo fare la domanda e c'è come in un condominio entra un inquilino nuovo e si aggiunge si entra e si esce senza dover spendere quattrini è aperta a tutti ma la comunità energetica quello che mi preme far capire serve anche per risolvere alcune problematiche perché faccio un esempio stupido però che rende bene l'idea se in un centro storico un punto del tutto particolare uno ha un appartamento, un'abitazione non può tecnicamente mettere i pannelli solari partecipando alla comunità energetica può sfruttare quella energia che la comunità energetica produce magari mettendo sul tetto di un capannone in mezzo alla campagna dove un agricoltore non ha nemmeno il pod cioè il condatore della luce attuale ma ce lo mette la comunità energetica produce energia viene sfruttata nel centro storico l'ideale per una comunità energetica è che sia come produzione uguale a quella che deve essere consumata perché se se ne produce di più va rimessa in rete e non rende noi nell'Unione Montana dei Monti Azzurri abbiamo previsto che l'eventuale eccedenza venga data alle persone fragili alle famiglie che non possono che hanno problemi insomma per la quotidianità in quanto l'Unione Montana è anche capofila dell'ambito sociale 16 e deve provvedere anche a queste cose in questo modo tanta energia si produce e tanta energia viene sfruttata e questo è l'optimum per far funzionare bene una comunità energetica alla quale chiunque si può aggiungere una volta che la società è stata costituita e una volta che funziona